Sono aperte le adesioni per la spiaggia solidale ad Agropoli. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola ha deciso infatti di confermare anche per il 2021 l'importante servizio dedicato ai diversamente abili e minori disagiati per permettere loro di godere del mare senza problemi e in maniera completamente gratuita. La spiaggia solidale, che consente di avere un ombrellone e sedie a sdraio a due passi dal mare, collocata in località San Marco, in adiacenza a Lido il Raggio Verde, sarà operativa nei mesi di luglio e agosto, sarà destinata a privati beneficiari della legge 104-92 o invalidità civile e ad associazioni di disabili e minori a rischio e sotto tutela che ne faranno richiesta. Un appuntamento molto apprezzato da famiglie e associazioni che si rinnova grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. La domanda di adesione può essere reperita sul sito web istituzionale e presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli. Questo è il quarto anno e noi siamo molto orgogliosi perché è un servizio completamente gratuito. Si svolge presso il Lido il Raggio Verde, sul litolare San Marco, ed è gestito in sinergia dai volontari del servizio civile, che sono dei ragazzi molto sensibili alle problematiche sociali. Quindi oltre ad accompagnare le persone con disabilità presso gli ombrelloni, organizzeranno anche delle giornate di gioco e di varie attività di socializzazione. Noi lavoriamo in sinergia, ripeto, quindi con i ragazzi volontari del servizio civile, la Croce Rossa e la protezione civile. Colgo l'occasione per ringraziare i proprietari del Lido il Raggio Verde perché è un momento molto importante per noi, perché si unisce il pubblico al privato. Quindi ciò che questo presidio è un presidio, ripeto, completamente gratuito e grazie alla signora del Raggio Verde che mette anche a disposizione i propri lavoratori per il quarto anno consecutivo possiamo dare una risposta molto importante.